salve a tutte e tutti e salve al nostro carissimo amico il giova che mi chiede di fare questo breve tutorial su come mettere la serba matte nel mate perché ha visto molti dei miei tutorial nel passato dove faccio colazione colmate dove anche prendo il mate negli short allora lui mi scrive vediamo se ho perso un momento ecco qua comunque mi è stata regalata una tazza per il mate da un amico argentino su amazon ho comprato l'erba mate mi ha chiesto a me se mi fa un video tutorial in cambio di un super grazie e va bene facciamo facciamo questo video qua c'è giova il il ph il ph prima ho detto solo il perché il figura nel cerchietto il ph giova e facciamo questo questo tutorial non tanto prendo mate e poi continuo ciao ciao lo farò per parti il ph giova ciao e ho dovuto aspettare dei giorni per poter fare il tutorial come date richiesto a cambio di un super grazie vabbè ma adesso lo faccio cercherò di fare del mio meglio vabbè adesso ti spiego come potrai vedere qua davanti a me ci sono differenti mate qualcuno dice che questi non sono mate ma sono per esempio questo è fatto con una zucca anche questo è da del metallo argentato probabilmente oppure alpaca questi sono belli e poi ci sono anche fatti col corno e poi questi qua che dovrebbero essere di legno quindi al mate lo si chiama al contenitore molte volte è una tazza metallica che dicono che matte in lo sado d'altra parte d'altra parte qua puoi apprezzare uno che è di porcellana con il azucca gerba tutto il gioco no porcellana non so se ci avevo anche la per l'acqua passiamo all'oggetto di questo video tu mi hai detto come se vari il mate come mettere la gerba mate nel mate io ti faccio vedere innanzitutto prendiamo la gerba qua ci abbiamo questa ci avevo distinte confezioni questa è una scatola metallica che si può versare così e poi dobbiamo cercare una bombigia io prendo questa anche se questa è vecchia ormai per forse troppo grande prendo tante questa mi funziona ancora mai vecchia ecco voglio tagliare il video ma non mi funziona si vede che si è surriscaldato io adesso levo un po il corno questo questo facciamo un po di spazio mettiamo qua il mate poi questo non puoi mettere l'impugnatura a destra o a sinistra come ti fa più piacere c'è chi dice che bisogna levare la polvere dal mate c'è chi invece dice che no che bisogna lasciarla a volte il mate viene la gerba mate perdono c'è chi dice che dalla gerba mate bisogna togliere il terriccio e c'è chi dice che bisogna lasciarlo io per quanto possibile utilizzo sempre che si cercano le cose non si trovano poi insomma questo cellulare mi utilizzo per togliergli alla gerba mate il terriccio in eccesso per esempio un colino così allora ci metto la gerba mate setaccio e passa il terriccio bisogna fare attenzione a non tritare la gerba mate ma c'è chi questo procedimento non lo fa e allora si mette la gerba mate che puoi levare con un cucchiaio oppure da un contenitore così vedi che salsa un po di terriccio ecco se lo metti nel metti la gerba mate nel colino vedi un po di terriccio rimane mia madre e dell'idea di togliere il terriccio ma molte persone lo lasciano tu se togli il terriccio così caro giova puoi metterlo in bustine e fare il mate così do c'è chi gli piace con più foglia con più palo vedi quanto se ne leva è un'enormità ecco però c'è chi lo lascia io lo levo e se tu vuoi sfruttare la gerba mate al massimo perché magari costa questo terriccio lo metti ci puoi fare del tè del tè con acqua bollente poi lo lo coli ti prendi il tempo va a fondo magari dovrebbe andare a fondo allora qual è il passo successivo io faccio come mi ha spiegato mia nonna faccio così perché faccio come un cratere no in questo modo in questo modo poi qua ci verso acqua fredda magari acqua minerale a volte con gas e rimane bello cioè fino a livello della bombigia e rimane una parte asciutta di gerba mate in questo modo non è che ci verso l'acqua su tutto rimane così perché io questa mattina ho fatto colazione non ho potuto fare il video ho fatto degli short rimane adesso tutto bagnato perché l'ho preso ma altrimenti la parte alta rimane asciutta allora dopo che gli ho messo un po di acqua fredda magari un cucchiaino 3 e l'ho bevuta ci passa a mettere l'acqua calda questo mia nonna lo faceva per evitare che si bruci la gerba mate o si consuma troppo rapidamente tuta e rimane così con una montagnetta dopo quando tu vedrai che si è sbiancata la gerba mate di sotto puoi anche versare qua sopra in modo che la consumi tutta a volte non mi funziona il cellulare per filmare dimenticavo di dirti per un momento le varianti del mate innanzitutto lo puoi prendere anche con acqua fredda c'è chi ci mette addirittura il ghiaccio d'estate quando fa molto caldo logicamente e l'importante che l'acqua sia sterile sia bollita ma ci puoi mettere acqua fredda e addirittura ghiaccio ci sono dei mates paraguasos che sono molto più grandi di questo realmente ci puoi mettere mezzo litro d'acqua dentro con la bombigia grande cioè questa che gli arriva fino qua quindi pensa che mate che perché guarda a questo mate che profondo la bombigia gli arriva fino qua fino lì io avevo un mate paraguasos che la bombigia gli arrivava il bordo gli arrivava qua del mate quindi il doppio il triplo di alto ma poi largo era enorme veramente consumati una gerba allo loco e allora d'estate li puoi prendere freddi i mate certo l'infusione da il suo risultato soprattutto con acqua calda poi d'inverno non solo con acqua calda li puoi fare ma c'è chi li prende io ancora non gli ho provato c'è chi li prende con latte caldo poi non so se ho ascoltato con alcool ma per quello no ma li puoi prendere con latte caldo certo il problema è sapere sapere la la bombigia se non si tappa con la crema del latte dovrebbe essere latte scremato però queste sono le possibilità oltre ulteriori che hai latte freddo latte caldo acqua fredda acqua calda tu fammi sapere con quale decidi di prendere e vabbè aspetto il tuo super grazie perché sono sicuro che questo video lo vedranno in pochi e comunque grazie di tutte le donazioni che ha fatto nel passato caro amico il ph giova e grazie delle donazioni che mi farai anche adesso il tuo sante incianti saluta e ti augura un felice e prospero anno nuovo 2024 ciao e condividi questo video mi raccomando è che mi si sta surscaldando il cellulare forse gli devo togliere la protezione di gomma perché vedo che alza molta temperatura ciao ciao infatti non mi funziona il tasto per 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 spegnere adesso guarda una cosa pazzesca se si vede che si riscalda lo schermo non so è